Siamo arrivati a Venezia e adesso andiamo a visitare questa città che ci mancava e ci aspettano 40 minuti di cammino per il centro. Dicono che Venezia puzza, ma non è vero. C'è un po' di odore del canale, però non è che puzza, c'è di peggio. Siamo al canale grande. Quello in fondo, alle mie spalle, è il ponte, non mi ricordo il nome, del rio Alto. No, com'è il ponte del rialto? No, il rio Alto siamo in Amazonia. Siamo a Piazza San Marco, ce l'abbiamo fatta? No, non è che fatti tutti i piccioni. È vero, non ci sono i piccioni. Dopo andremo sul campanile di Piazza San Marco e non si possono fare foto. Vedremo di fare qualche video così al volo, ma è un po' difficile. Il Leo Galilei studiava il cielo, le stelle, quindi questo campanile ha ospitato il Leo Galilei della storia dell'astronomia italiana. Si va a Murano, adesso andiamo a vedere qualche fabbrica di vetro e speriamo di riuscire ad entrare. Siamo nella fabbrica di vetro. Adesso vediamo come lo fanno. Qui si è? Siamo nel rioDatese. E Vieni! Arrivor suzie. Sue. Qu Grazie.